Ciao ragazze, allora nuovo video, questo come vi ho detto dal titolo sarà il video delle novità della settimana Lidl sono appena uscita appunto dal mio Lidl, quello più vicino a casa e ho preso come sempre il volantino prima però di iniziare il video volevo ringraziarvi per tutti i commenti positivi sotto l'ultimo video come vedete sto utilizzando spessissimo gli occhiali di cui vi ho parlato e insomma grazie veramente per tutti i feedback che mi avete lasciato ho già visto il volantino un pochettino online sull'app Lidl ma adesso sono riuscita finalmente ad averlo fra le mani di modo che possiamo togliarlo insieme allora sarà la settimana dedicata a tutti i prodotti deluxe comunque per Pasqua Pasqua deluxe per tutti e abbiamo tantissime specialità come ad esempio la creme brulee, i porcini a cubetti e comunque vedete tutti questi prodotti che so che tantissime di voi amano della linea deluxe e che io ho provato e con cui mi sono trovata molto molto bene sono veramente cioè guardate tipo 5-6 pagine e c'è di tutto dai dolci ai salati eccetera secondo me insieme alla linea italiamo è una delle migliori appunto che possiamo trovare qui da Lidl e poi ancora abbiamo nuovi prodotti sempre di favorina la Pasqua è sempre più dolce quindi colombe poi le classiche promozioni queste per capirci delle offerte settimanali ma passiamo alla parte che più ci interessa iniziamo subito con tutti i prodotti di Parkside quindi abbiamo trapano avvitatore, la smerigliatrice, la macchina affiliatrice tantissimi prodotti per il bricolage o comunque per il fai da te questi che adora il patatone e poi abbigliamento sempre da lavoro volevo segnalarvi una cosa con cui mi sono trovata molto molto bene ossia le batterie questo Natale cercavo le batterie queste qui in tonde da mettere, non so se avete visto nel video quello Home Decor ho tantissime tipo candele però automatiche e con queste della Tronic mi sono trovata davvero benissimo anche perché il prezzo è ottimo di nuovo è tornato l'intimo Esmara questa volta come vedete è molto più basic abbiamo canottiere, anche cose da uomo ma anche reggiseni, insomma magliette intime eccetera la cosa che mi premeva di più segnalarvi però assolutamente sono queste promozioni qui vedete di Sien ma della linea quella che io vi consiglio e che adoro ossia la Sien Netour nello specifico vi dico che abbiamo in promozione di 1 euro quindi anziché 3,49 euro a 2,49 euro la crema viso melograno sia giorno che notte ma anche la crema viso alla rosa canina sia giorno che notte quella alla rosa viene 2,29 euro quindi col 23% di sconto rispetto al prezzo classico ossia 2,99 euro ci tengo a precisare che io le ho provate tutte e quattro queste che vedete diciamo qui riportate e per la mia tipologia di pelle che è molto secca o comunque guardando anche gli ingredienti delle singole creme io vi consiglio assolutamente la linea al melograno capisco che può essere un pochettino allergizzante perché comunque l'estratto l'olio di melograno fa questo lavoro ma comunque io sulla mia pelle che è sensibile non ho avuto alcun problema e mi sono trovata molto molto bene sono sincera con una linea alla rosa non tanto una vista più blanda e più leggera quindi quando mi chiedete una crema viso da acquistare a Lidl io vi indico assolutamente queste due qui vedete giorno e notte al melograno e poi abbiamo il mitico olio alla betulla contro gli enesterismi della cellulite che è un ottimo prezzo infatti anziché 3,99 euro lo troviamo a 1 euro di sconto a 2,99 e sapete che questo prodotto lo adoro se volete una recensione approfondita io vi lascio sempre qui sopra del pallino informazioni un video in cui praticamente dico tutte le mie impressioni ma vi faccio vedere anche come lo applico sulla pelle ci tengo a precisare una cosa perché comunque non voglio che questo video diventi della CNE ma voglio parlarvi un po' di tutto che questo dovete usarlo sempre su pelle umida o comunque bagnata ecco perché in questo modo dà più effetto ancora voglio segnalarvi tutti questi diciamo tutti questi desertivi ecologici per la casa ancora tantissime tantissime piante si avvicinano a primavera e infatti abbiamo anche vedete questi prodotti qui che sono per il giardinaggio ma anche vedete proprio prodotti per decorare il giardino e invece l'ultima parte del volantino riguarda ancora il letto del marchio Meradiso abbiamo copri materasso copri letto copri piumino ce ne sono veramente tantissimi addirittura questa settimana anche le tembe ed infine i pigiami da donna che sono davvero molto carini l'unica cosa che sono a maniche corte e pantaloncino corto del marchio Esmara Lingerie e vengono 9,99 euro prima di lasciarvi volevo dirvi altre due cose al volo prima cosa oggi sono stata appunto da Lidl e neanche qui che è l'altro Lidl della mia zona hanno la PHB cioè non l'ho proprio vista non c'è neanche l'espositore quindi non lo so forse da me appunto non è arrivata ufficialmente ne sono passati comunque tre giorni dal video da lunedì quindi da me nulla e ho visto però che da voi cioè che moltissime di voi hanno acquistato tanti prodotti e sono molto molto contenta visto che comunque nei commenti ho letto che vi interessa questa linea ho già registrato il video review sugli ultimi prodotti PHB ossia maschera capelli scrub corpo eccetera che naturalmente troverete online sul canale nei prossimi giorni e poi ho visto che ci sono poi dei saponi per le mani che sono usciti nuovi in promozione poi vi lascio le foto qui sono comunque di tre fragranze ecco ragazzi purtroppo io non li ho acquistati perché comunque non hanno un buon inci c'è anche rispetto agli altri saponi per le mani doccia schiuma di Sien comunque ragazzi con questo è tutto io vi mando un bacio grande ricordatevi sempre di lasciarmi un bel pollice in su di supporto e di iscrivervi al canale fatemi sapere cosa acquisterete questa settimana tra le promozioni Lidl e noi ci vediamo nel prossimo video ciao ciao